Inter-Juventus, il derby d'Italia triangolazione stretta ancora con Darmiano che restituisce il pallone al centro capista dell'Inter, linea del rigore, prova la sforbicione da volante ha segnato l'Inter esattamente al minuto 36 nel corso del primo tempo cambia il parziale a San Siro e dovrebbe essere stato un Tugam o forse anche un autorete di un difensore della Juventus dopo il tentativo di sforbiciata di Pavard l'intuizione di Bavera che ha scavato il pallone facendolo pervenire nel lato esterno dell'area di rigore bianconera il tentativo di sforbiciata ad opera dell'ex Bayern Monaco il pallone che finisce sul corpo